Quali i principali titoli Disney per i prossimi mesi? Io partirei da The Avengers, che è il primo film della Marvel distribuito dalla Walt Disney. Esce in sala il 25 aprile 2012 ed è per noi uno dei titoli di punta del nostro listino. Ha un cast stellare, quindi Iron Man, Thor, Hulk, Capitan America tornano tutti insieme sul grande schermo. Nel mondo questi personaggi hanno incassato più di 2 miliardi di dollari e noi ci aspettiamo moltissimo da questo film. Ovviamente c'è anche grande spazio all'animazione, torna uno dei film più amati? L'11 novembre infatti noi usciremo con Il Re Leone, il capolavoro della Disney che nel 1994 ha venduto oltre 7 milioni di biglietti in Italia. Noi lo rilanciamo in sala in 3D, quindi come se fosse un film nuovo, creando la settimana del Re Leone. Quindi lavoreremo come Walt Disney Company insieme a tutte le divisioni e le linee di business proprio per creare questa opportunità per le famiglie, per rivedere questo capolavoro sul grande schermo in 3D. Disney distribuisce anche i film della DreamWorks e c'è una new entry che è quella ovviamente di un grande come Steven Spielberg. Ora noi abbiamo, sono tre film quest'anno della DreamWorks, War Wars prodotto e diretto da Steven Spielberg, Real Steel, un film su cui anche puntiamo moltissimo, che ha come produttore esecutivo Spielberg, e Fright Night, che è un thriller horror con una vena ironica con Colin Farrell come protagonista. Quindi tre film importanti da agosto fino a gennaio. Poi è uscito da poco Cars 2, la Pixar cosa ci proporrà? L'anno prossimo noi confermiamo la nostra data estiva, il 27 giugno usciremo con The Brave, che è la storia di una ragazza coraggiosa e ribelle che preferisce le avventure alla consueta vita di corte. È una bellissima storia ambientata in Europa, quindi in una Scozia medievale, con delle immagini, ovviamente la Pixar ogni anno fa dei passi avanti. Siamo felicissimi di aver posizionato nuovamente il film in questa stagione estiva, quindi praticamente sulla stessa data di Cars, il 27 giugno. C'è anche spazio per l'impegno, è uno dei film più attesi che si abbia visto con Riccione, Head Help. Noi abbiamo presentato il film ad Amsterdam e diciamo che ha riscosso un notevole successo. È un film difficile sicuramente per il mercato italiano, faremo di tutto affinché riesca a raggiungere il grande pubblico. Quali sono poi le uscite principali che avrete a seguire, appunto l'inizio dei nuovi film Marvel, c'è qualcosa che pensate di poter distribuire e che ancora non avete certezze? Abbiamo diverse anticipazioni, abbiamo dei film con Johnny Depp, quindi Lone Ranger per esempio, che è fra le nostre anticipazioni nel 2013, Iron Man 3, Monsters University, quindi il sequel, anzi il prequel di Monsters Inc. Abbiamo diversi titoli molto forti, ma nella stagione 2012-2013. Il Pirati dei Caraibi se ne parla già di una possibile... Eh sì, già stanno annunciando, a brevissima annunceranno Pirati dei Caraibi 5, quindi torna Johnny Depp, dopo anche il successo di Pirati dei Caraibi 4, che ha incassato nel mondo oltre un miliardo di dollari, che ha superato proprio la settimana scorsa la quota un miliardo di dollari, per noi è un investimento quasi certo. Qual è la valutazione che date del 3D? Ma il 3D sicuramente l'abbiamo visto crescere nell'ultimo anno, stiamo vedendo ora un leggero declino in Italia e un rapido declino anche in altri paesi, soprattutto per quanto riguarda le presenze. È stata un'opportunità per portare più persone al cinema, partendo da, diciamo, Avatar, penso sia stato il primo film veramente forte in 3D, insieme anche a altri, per esempio, nello stesso periodo noi avevamo Christmas Carol un mese prima e Alice in Wonderland il mese dopo, e quello è stato veramente il boom del 3D. Ora stiamo vedendo che i numeri stanno cambiando, ma è una tecnologia che resterà, secondo me. Grazie a tutti.